Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Sempre in A12, possibili disagi per il vento forte e fare molta attenzione tra l'allacciamento con la 11 e l'allacciamento con la Statale 1 Aurelia. A Firenze per uno scavo urgente di Toscana Energia dovuto ad una fuga di gas, fino al 2 aprile è chiusa via Piercapponi tra viale Don Minzoni e via Fra Bartolomeo, istituito al doppio senso di marcia in via Piercapponi entrando da via Fra Bartolomeo. Ed è tutto, buon viaggio! A Firenze per uno scavo urgente di Toscana Energia.